Quando tutto ciò che insegui nel cuore è per amare e ottenere Dio Hai rivolto il cuore a Lui, non pensi al futuro a cosa accadrà Non c'è altro nel tuo cuore che Dio e le sue parole Volgere il cuore a Dio è il modo per amarlo e conoscere la sua indole Protendersi verso Dio con tutto il cuore e volgerlo interamente a Lui Questo è il primo passo per amare Dio, il primo passo per amare Dio Nutriti delle sue parole, prega ogni giorno tieni da conto la sua volontà E l'opera della Chiesa amalo e soddisfa il suo cuore e il tuo cuore apparterrà a Lui Quando qualcuno dona il suo vero cuore a Dio, la sua esperienza di vita ha iniziato La sua indole iniziato a cambiare e cresceranno il suo amore e conoscenza di Dio Protendersi verso Dio con tutto il cuore e volgerlo interamente a Lui Questo è il primo passo per amare Dio Il primo passo per amare Dio Volgere il cuore a Dio è un requisito per amarlo, per capirlo E per porsi sulla retta via è ciò che devi fare Ma non significa vero amare Dio O d'aver compiuto il tuo dovere per amarlo Volgere il tuo cuore a Dio è la prima cosa da fare E il solo modo per amarlo veramente Protendersi verso Dio Protendersi verso Dio con tutto il cuore e volgerlo interamente a Lui Questo è il primo passo per amare Dio Il primo passo per amare Dio Coloro che amano Dio sono quelli che cercano la vita Inseguono la verità e davvero vogliono Dio Sono illuminati mossi dallo spirito Possono essere guidati da Dio Protendersi verso Dio con tutto il cuore e volgerlo interamente a Lui Questo è il primo passo per amare Dio Il primo passo per amare Dio Se vuoi amare Dio Volgi il tuo cuore a Lui Volgi il tuo cuore a Lui Il primo passo per amare Dio